Da 15 a 20 anni di carcere per Ignacio Urdargarin, marito dell'infanta Cristina. In Spagna, stando a fonti giudiziarie anticipate dalla stampa, potrebbe essere questa la pena finale richiesta nelle prossime ore per l'imputato eccellente del caso Onos. 20 gli accusati, tra cui la sorella del re di Spagna, sotto processo per reati fiscali e non più per riciclaggio di denaro. Per la procura anticorruzione non esisterebbero tuttavia indizi di reato. Ignacio Urdargarin, ex giocatore di pallamano, è sotto processo per otto reati, dalla malversazione di fondi pubblici al riciclaggio di capitali ed evasione fiscale. L'indagine prende il nome dalla Fondazione per la promozione dello sport, da lui presieduta tra il 2004 e il 2006. L'accusa per Urdargarin è di aver drenato oltre 6 milioni di fondi pubblici per l'organizzazione di avvenimenti per le comunità valenziane e delle isole balearie attraverso una rete di imprese create ad hoc.